Tuscania, Basilica di San Pietro, l'esterno. Una persona per cui nutro una grande stima, ma presissima da mille cose, ha trovato il tempo, e me ne sono stupito, per chiamarmi, e professando stima per i poveri video che creo, mi ha suggerito di capitare a Tuscania, se volevo conoscere un romanico straordinario. Naturalmente l'ho fatto e sono rimasto proprio folgorato dalle sue chiese. Inizio qui a presentarle partendo dall'incredibile Basilica di San Pietro, l'esterno qui, poi a seguire l'interno. Giorno a Tuscania, Maria, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.